in un momento di relax meditativo dopo queste dirette su cosmogolof questa mattina ho avuto la grande opportunità così facendo una bella sorpresa un paio di amici davide persico con le station e lamberto con questo prodotto che si chiama gringo è un prodotto che migliora la qualità lavorativa del parrucchiere ne abbiamo un pochino parlato è stato veramente molto interessante ma è stato anche interessante david queste fasce che si possono riutilizzare durano tre mesi non ce ne vogliono tante dalle 10 alle 20 unità ma poi nelle prossime vedremo un po più nel dettaglio che cominciare a viaggiare un pochino verrò a trovarvi colleghi riusciremo a trovare un qualcosa di nuovo e di riproporci nella nostra professione vi ricordo di iscrivervi al canale youtube condividetelo per il corso di formazione online iscrivetevi come abbonamento per sole 12 euro al mese che possono migliorare e rafforzare la scuola di ai e station che andiamo a fare ci vediamo nel gruppo privato mtc extension i link li trovate sotto il video ciao ragazzi buon pomeriggio ciao ciao